Ben ritrovati con Agriinforma TV, in questa nuova veste di una edizione smart, celere, per informarvi in modo continuo su ciò che avviene durante la settimana nel mondo agricolo. Quindi Telesveva riprende l'informazione e l'aggiornamento per l'agricoltura. Presentata a Bari l'edizione 2017 di AgriLevante, rassegna internazionale di macchinari e impianti per le filiere agricole che si svolgerà a Bari dal 12 al 15 ottobre. Organizzata da Federuna Coma in collaborazione con l'agenzia ICE, in particolare evidenza il tema dello sviluppo agricolo del Mediterraneo e dell'Africa e con un forum internazionale che si terrà nell'ambito della rassegna. E' stato dichiarato nel corso della conferenza stampa tenutosi presso il nuovo centro congressi del quartiere fieristico. L'incremento delle aziende espositrici, 300 nell'edizione 2015, mentre sono già 27 le delegazioni estere ufficiali, in rappresentanza di altrettanti paesi che hanno confermato la partecipazione aderendo al programma di internazionalizzazione dell'evento fieristico. La rassegna si impegnerà su una superficie espositiva pari a oltre 50.000 m2, comprendendo anche un'area esterna destinata in parte a prove dimostrative di macchinari. La Commissione europea vuole cambiare passo sull'applicazione della direttiva per l'uso sostenibile degli agrofarmaci e sta preparando una relazione sull'attuazione della direttiva agli Stati membri. La rinnovata attenzione di Bruxelles all'uso sostenibile degli agrofarmaci è su come garantire una produzione agricola sostenibile, ma anche conveniente e nel caso dell'utilizzo sostenibile dei fitosanitari questo equilibrio dipende soprattutto dagli Stati membri. La motivazione politica sul fronte delle sostanze e sulla protezione delle piante, la fase è particolarmente delicata. Dopo il caso glifosate, ogni autorizzazione o riautorizzazione di un principio attivo in agricoltura avviene in un clima politico infiammato dalla polemica e la Commissione si trova a dover assumere la responsabilità pressoché integrale nel prendere decisioni scomode. Ancora tre settimane e poi dal 13 marzo gli agricoltori dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla guida dei mezzi agricoli. Sono chiamati a frequentare un corso di formazione per ottenere l'abilitazione tutti coloro che lavorano con un trattore nell'ambito di un'azienda agricola, sia essi titolari, dipendenti o parenti. Per la maggior parte degli agricoltori si tratta di un corso di otto ore, ma per coloro che hanno una comprovata esperienza le ore di frequenza si dimezzano. L'abilitazione è valida per condurre tutti i trattori agricoli e ha una durata di cinque anni. Probabilmente sarà anche da ripetere la scadenza di cinque anni. Si tratta di momenti formativi importanti che possono aiutare a porre un freno alla seria drammatica di incidenti cui si assiste nelle campagne, spesso anche fra persone esperte. Il Ministero delle Politiche Agricole rende noto che è stata presentata a Roma dal Ministro Martina la prima assicurazione sui ricavi per il settore cerealicolo. Si tratta di uno strumento sperimentale innovativo per la gestione del rischio per i produttori di grano duro e di grano tenero. Come funziona? Un produttore agricolo di grano può sottoscrivere la polizza ricavo pagando un premio alle assicurazioni che viene coperto per il 65% dall'agevolazione del Ministero. Nel caso di ricavo del grano scende del 20% rispetto alla media triennale del ricavo per ettaro l'agricoltore riceverà dalla compagnia assicurativa un indennizio per la perdita del reddito. Questa polizza è aggiuntiva rispetto alle garanzie tradizionali contro le avversità come gelo, siccità, alluvione o eccesso di neve, grandi neosbalzi termici. Facendo un esempio concreto rispetto ai prezzi registrati quest'anno per un'azienda foggiana di 10 ettari il risarcimento per perdita ricavo sarebbe stato pari a 3.720 euro ottenuto dalla differenza tra la media triennale dei ricavi 11.295 euro e l'introito effettivo del 2016 pari a 7.575 euro. L'osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha aggiornato le aree delimitate dal fenomeno xylella fastidiosa. Il batterio che sta falcidiando interi uliveti nel Salento con focolai riscontrati anche in provincia di Brindisi e Taranto, il confine della zona Cuscinetto viene ora spostato sempre più a nord, proprio in seguito a questi ritrovamenti nelle scorse settimane, nella speranza che non vengano riscontrati ulteriori focolai, dall'esito delle analisi di campioni prelevati su tutto il territorio dai tecnici dell'ARIF, l'Agenzia regionale per gli interventi irrigue e forestali. Una circostanza che sta preoccupando non poco gli olivicoltori del Brindisino e del Tarantino, ma anche diversi bivaisti che operano sul territorio, come sottolinea una nota della CIA Puglia. La speranza è che il monitoraggio a tappeto attuato dalla Regione Puglia, con l'impiego dei tecnici dell'ARIF e dei centri di ricerca scientifica, presso i quali vengono eseguite le analisi dei campioni prelevati sul territorio, dia esito negativo. Il respiro del vino, conoscere il profumo del vino per bere con maggiore chiarezza, è in libreria l'ultimo lavoro editoriale del professor Luigi Moio, uno dei massimi esperti di enologia italiana, ordinario all'Università di Napoli Federico II, presidente della Commissione di Enologia dell'OIV, ma anche esperto scientifico presso il Ministero delle Polite Agricole, nonché consulente di numerose cantine del Centro Sud e produttore in prima persona dell'azienda di famiglia Quinto Decimo a Mirabile Clano in provincia di Avellino. L'opera è il punto di arrivo di oltre vent'anni di studi legati agli aspetti sensoriali, biochimici e tecnologici degli aromi del nettare di Bacco. Finalmente realizzo il sogno di parlare anche al grande pubblico e non solo alla ristretta cerchia degli specialisti, racconta il professor Moio durante la conferenza stampa di presentazioni a Bari. La trattazione è rigorosamente scientifica, ma si è cercato di utilizzare un linguaggio semplice e chiaro alla portata di tanti appassionati di vino che non possiedono nozioni tecniche. Da sempre, durante le lezioni accademiche, nel corso dei seminari in giro per il mondo, il professor Luigi Moio ricorre all'uso di aneddoti, esempi, similitudini e soprattutto disegni per rendere visibili e più immediati concetti, spesso piuttosto complessi. In questo libro, ad aiutare il lettore, ci sono le illustrazioni di una bravissima disegnatrice. Una piccola apertura c'è. L'Unione Europea potrebbe rimuovere il divieto di reimpianto degli ulivi nelle zone infette colpite dalla Xirella. A dichiararlo è il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan in occasione dell'incontro all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano nel corso del quale si è parlato del settore agricolo nella regione mediterranea. Quella speranza è alimentata, a giudizio di Hogan, dal confronto che lo stesso ha avuto prima della tappa pugliese con il commissario europeo alla salute Andri Aukaitis, che è in carico a il dossier sulla Xirella. Ed è quest'ultimo ad aver espresso la volontà a rimuovere il divieto di reimpianto degli ulivi nelle zone infette, anche sulla base della comunicazione attesa per marzo da parte dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Intanto Hogan ha apprezzato gli sforzi fatti dalla regione Puglia e dal governo in tema di sorveglianza sul batterio che colpisce gli ulivi ed invita a non abbassare la guardia nel controllo dei focolai. Il commissario europeo all'agricoltura ha anche ribadito che la commissione della UE continuerà a considerare tutte le possibilità di finanziamento per la sorveglianza e l'attuazione delle misure nelle zone tampone e in quelle infette. La commissione, ha spiegato ancora Hogan, si muove sul fronte della ricerca e sulla Xirella. Ci sono due progetti, Horizon 2020, con un budget importante. Nel corso dell'incontro è stato il vicepresidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo, il pugliese Paolo De Castro, a ribadire che c'è da fare fronte comune per dimostrare di saper contenere la diffusione del batterio, così da poter chiedere le deroghe all'applicazione della decisione dell'Unione europea che oggi blocca il Salento. Termina questa edizione di Agrinforma TV, versione Smart. Il nostro appuntamento è sempre su Telesveva, dove continueremo ad incontrarci e ad aggiornarvi su ciò che avviene nel mondo agricolo. Un ringraziamento dalla redazione giornalistica di Telesveva. Grazie. Grazie.